Negare il suicidio assistito non viola i diritti dei malati. È il cuore della sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo che si è espressa a favore del diritto dello Stato ungherese di vietare questa pratica. Il caso riguarda Daniel Karsai, cittadino ungherese di 47 anni, avvocato, specializzato nei cosiddetti diritti civili, a cui nell'agosto del 2022 è stata diagnosticata la sclerosi laterale amiotrofica. L'uomo si è appellato alla Corte di Strasburgo sostenendo che presto sarà imprigionato nel proprio corpo senza alcuna prospettiva di liberazione se non la morte. Per questo, dopo aver coniato lo slogan «La vita non è un obbligo», ha presentato ricorso contro la legge ungherese, ricorso che però è stato respinto. I giudici rimarcano che nonostante una tendenza crescente vada verso la sua legalizzazione, la maggioranza degli stati membri del Consiglio d'Europa continua a proibire sia il suicidio medicalmente assistito sia l'eutanasia. Di conseguenza, scrivono, i paesi hanno un ampio margine di discrezionalità e le autorità ungheresi sono dunque legittimate nel decidere per il divieto. Una grande delusione, commenta Karsai sul suo profilo Facebook, annunciando che la sua battaglia legale non si ferma. Nella sentenza la CEDU osserva che fa parte della condizione umana che la scienza medica probabilmente non sarà mai in grado di eliminare tutti gli aspetti della sofferenza dei malati terminali. Inoltre si sottolinea il ruolo fondamentale di cure palliative e compassionevoli insieme ad un'assistenza dagli standard medici elevati e adatti alla gestione di situazioni di estrema vulnerabilità.